Il Comune di Bari è tra le prime amministrazioni a livello nazionale nel porre limiti stringenti alla emissione in atmosfera dei fumi e dei vapori prodotti dagli esercizi ristorativi. A partire da maggio 2017 saranno vietati i sistemi di scarico a parete, saranno invece obbligatorie le canne fumarie con sbocco in terrazza. Faranno eccezione alcuni casi particolari che dovranno essere verificati dagli organi tecnici del Comune e per i quali dovranno essere adottati sistemi alternativi. I rappresentanti di Anci, Arpa Puglia, Asl e Comune di Bari si sono dati appuntamento a Villa Framarino per discutere di queste importanti novità. Questo è un annoso problema che convolge molto gli operatori e tutte le amministrazioni comunali perché le normative sono molto restrittive e la canna fumarie crea notevoli disagi. Oltre alle operatori vicini e così via. Nel corso della tavola rotonda è stata presentata una importante innovazione made in Puglia, concepita da un'azienda barese, la F-Quadro, un sistema di ultima concezione per lo scarico dei fumi delle cucine professionali. È un sistema che si pone da alternativo alle canne fumarie per le emissioni in atmosfera di fumi, vapori e odori provenienti dai centri di cottura della somministrazione ristorativa, trattorie, bracerie, pizzerie e ristoranti. È un sistema che oltretutto non si preoccupa soltanto di estrarre aria, ma immette aria. Quindi è un valore aggiunto notevole rispetto alle canne fumarie che fino ad oggi invece estragono soltanto. Noi immettiamo, estraiamo, quello che viene estratto viene filtrato, tanto da rendere quest'aria estratta un'aria esausta che può essere direttamente immessa in atmosfera esterna a temperatura ambiente ed in odore. E altro valore aggiunto è che l'aria che andiamo a immettere in zona cottura, quindi nella cucina e nel laboratorio, viene estratta in quantitativo maggiore cosicché la cucina va in depressione e non abbiamo gli odori che finiscono in sala a somministrazione. Coperto da brevetto europeo, il sistema rappresenta una novità per il settore della ristorazione, favorendo la salubrità dell'ambiente esterno e il benessere degli operatori delle cucine professionali.